In quei bagni c'è una situazione veramente precaria? Di disagio, di disagio veramente. È dal mese di gennaio-febbraio che sono così e non si riesce più ad andare perché è una cosa inverosimile. Dall'inizio avevano dato la chiave a tutti gli operatori, dopodiché hanno cominciato a lasciare la porta aperta, hanno addirittura divelto quella sbarra di acciaio che tendeva a far chiudere la porta. Lì si incontrava di tutto o di più, zengari, extracomunitari perché chiedono la carità di tutta questa gente. Tutti entravano, tutti facevano, tutti con un modo proprio indecoroso. Uno non è che uno se usa il bagno, usa il bagno come lo usa a casa, lascia pulito. Dopo gli hanno chiuso questi bagni per via di questa gente che entra lì, insomma, una cosa proprio inguardabile. Insomma, voi cosa chiedete? Che ci sia un po' di pulizia? A parte la pulizia, ma almeno che ci sia la possibilità, magari un quando va giù alla mattina a lavorare, se uno ha bisogno di da gel vai, che ci abbia un bagno un po' decente. Magari io glielo ho anche chiesto se possono fare anche quei bagni a pagamento. Allora, chiediamo, anzi chiedete che qualcuno si prenda cura di questa cosa. Sì, abbiamo magari la possibilità di chi lavora lì, abbia la possibilità magari se ha bisogno di andare in bagno. Insomma, le necessità ci sono qualche volta, mica sempre. Proprio. Proprio.